Benvenuti ragazzi in Slenderman's Shadow Bestial Ne offre play, abbiamo tutti i livelli ragazzi della mappa Sanatorium, Hospice, Elementary, Mansion, Clastrofobia, 7th Street, Prison, Carnival, Christmas Special Tutte, 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 più Carnival e Christmas Special Tutte rimasterizzate in HD e Slender è in HD anche Ho paura Allora andiamo a fare oggi Oggi andiamo a fare, andiamo a fare, andiamo a fare Io partirei dalla prima fino all'ultimo Sanatorium Perfetto Sanatorium Ok Vedete la grafica è stupenda Cazzo Ho già paura Ho già tanta paura E Vestiti Caccole E qui Una pagina Una pagina ragazzi, una pagina It's rude to stare It's rude to stare Cristo Ma è troppo Ok Slendino Piccolino Slendino Piccolino Slendino Il bagno Il bagno Siete uomini di ragazze Questa è una nuova cosa Ragazzi Potete vedere che Madonna è troppo fatta No no Sono uomini Sono uomini Stavo scherzando Lo specchio Che non possiamo vederci allo specchio Always watching Sempre Watching Cos'è watching Sempre Presenta Presenta Sempre presente Slender è sempre presente Ragazzi One day Slender One day baby One day baby One day slender One One day slender One day slender One day slender One day slender One One day slender ecco che c'è la panchina dove si sedevano tipo i bambini ma può essere molto probabile e noi ci troviamo tipo in questo sanatorium che sarà tipo un ospedale psichiatrico ma nemmeno è tipo un sanatorium non lo so poi ci sono i banchi sarà che era un ospizio non lo so ah hai visto c'è pure il bar la mensa ma non c'è slender pensavo che slender c'era vendeva i gelati invece no slender non vende i gelati e cosa vendi allora? ti vendi i bambini ti vendi i bambini eh questo lo sapevano tutti 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 ho trovato la terza pagina out of sight out of mind fuori il singhiozzo no senza singhiozzo ho un po' di un po' piangi piangiamo perché devo piangere? perché perché devo piangere slender? io non pianco soprattutto se mi fai piangere tu e non mi fai piangere piangere slender? ma che cazzo sei? ahhh ma che cazzo spunti così? e alle spalle? vuoi spaventarmi eh? non ci riuscirai oh cristo figlio di puttana figlio di puttana che figlio di troia sei un bastardo un bastardo va bene ma che ci sono i bug? va bene slender vuoi la guerra? la guerra vorrai ti prendo tutte le pagine te le rubo e li prendo a fuoco no one non sopravviverai non sopravviverai io sopravviverò invece che cazzo vuoi? che cazzo vuoi? ok adesso inizio ad avere paura allora siamo nella sala macchina nella sala macchina dove non lo so che succedeva nella sala macchina penso che si accende la luce guarda dove siamo venuti ragazzi e io sto impazzendo non respirare così affannato oh cristo attapa davanti attapa davanti attapa davanti oddio porca dì sto impizzando oddio ho fatto un culo slender ho preso a quattro pagine come cazzo mi ha preso? come cazzo mi ha preso? no mi sono cagato bastardo sei un bastardo slender se mi stai leggendo se mi stai vedendo che cazzo dico sei un bastardo non continuo non continuo e taglio tutto finisco il video ragazzi basta slender bastardo la prossima volta andremo a fare hospice li vedremo tutti comunque vedete che le mappe sono tutte rimasterizzate in hd slender l'avete visto come cazzo è fatto tipo tutto 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 più piccolo vabbè crediti runaway runaway vuol dire uscita non lo so che vuol dire va bene slender ragazzi da da po' più piano po' 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 poco più piano, sempre noi, CastGamerBrother, alla prossima, mettetemi via!